Propongo qualcosa di meglio di Playboy. Ragazzi, lo volete vedere un cadavere? Cliff, siamo nel 1955. Torna nel sotterraneo e ripeti la scena in uno stile un po' più stereotipato. Oh, signore mio, io vedere cadavere morto giù al lago, padrone. Volevo andare a pesca di salmone, invece ho trovato salma. Cliff, calmati, stai dicendo solo sciocchezze.